Bentornati su Birth by Sleep! Nello scorso episodio siamo stati nel Bosco dei Nani e in questo episodio andremo nel Dominio Incantato! Il Dominio Incantato Dunque, prima di andare avanti, attenzione, qui c'è uno scrigno e adesso, miei cari, devo giusto un secondo sistemare i miei comandi Ci metterò letteralmente 5 secondi Non letteralmente, però cerco di sbrigarmi perché non dobbiamo stare qui 100 anni, no? Allora, così va bene, così, così, ok Inoltre, se non sbaglio, devo equipaggiare il nuovo Keyblade, 7 miniere, che è meglio di cristallina Anche se non sbaglio, più corto di cristallina, ma non importa tanto Allora, abbiamo magnete finalmente, quindi possiamo raccogliere nemici e poi distruggerli con Tempesta Firaga Comunque, abbiamo visto una luce che abbandonava il castello verde, ma sono sicuro che quel verde e questo cielo non indichino niente di malvagio e maligno, no? Andiamo avanti Ora, tenete bene a mente una cosa In questo loco, miei cari, non so se lo sapete, ma ci sono alcuni scrigni che, ora come ora, non possiamo raggiungere Ma con Aqua, diversamente da Ventus, perché non so se avete visto l'episodio in cui affronto questo mondo con Ventus, ma non importa Beh, c'è una certa cosa che si può fare per ottenere prima i tesori Però vedremo più in là, ok? Certo, usare due furia potrebbe andare bene, se non sbaglio, però non ho due furia e francamente non mi va Ora, qui sopra, appena finiamo di fare Beyblade, ok C'è un altro scrigno, questo me lo ricordo, che contiene ping, sonnolenza Ora come ora, ci serve poco sonnolenza E, sì, serve furia e... due furia servono Neanche Blitz Barriera serve O meglio, basta, non serve A tale proposito, ricordo che questi non sono Nascence, sono tirapiedi di qualcosa di malvagio e maligno Ma non possiamo saperlo adesso, vai, Tempesta Firaga Fire, ouch Ah, quanto vorrei avere un comando di cura Ehi, ma tra poco c'è uno scrigno che contiene un comando di cura, esatto Se non erro è proprio qui che si trova il primo comando di cura per acqua E finalmente aggiungerei Ora, mentre... spin to win, in pratica Dovrebbe essere qui... ecco di qui, mio caro Se hai energia... esatto, hai energia Ora, eh... fire livello 3 Quindi andiamo con energia Posso combinare qualcosa? Fire con... furia Non lo voglio, grazie Blizzard con... furia No, grazie E... basta allora Perché se non è furia... È appunto, solamente furia Francamente non mi interessa combinare furia con niente Dato che ho comprato furia solamente per... Avere furia puro Comunque, andiamo qui Acqua Terra non farà così. Voi lo sapete come io. Si. Ah, la verità può essere più brutta, anche tra i miei più vicini. Dopo tutto, non sapevo i segreti di un altro. La verità è vero, Venti, Acqua. Mi ha messo. Poi, torniamo a casa. Ma Terra? Terra non è pronto per farlo. Quattro, Acqua, ma non posso andare con te. Cosa? È solo... Ho dovuto trovare lui prima di più tardi. Venn! Vedo che tu anche, Wielder Keyblade. Ma come tu sai sui Keyblade? Un'altra potenza. Un'altra potenza che abriva i pensi di tutti i mondi, di tutto il mondo. E che gli aiutano a ottenere qualcosa e tutto. Un'altra potenza che mi trovo più fascinante. Quindi Terra... È davvero... Sì. Ora, mio amore, mi piacerebbe anche? Per me aiutare anche. Non! Vedo. Xehanort è vero. Sei una ragazza più forte. Master Xehanort, come... È sembra che hai bisogno di prendere il mio offer. L'unico, ho il momento perfetto. Chi è? Mi nome è Acqua. Si sembra che sono stato in una trapta. Perché sei qui? Per evitare me da scendere la scendere di questa scendere. Mi sembrava la più bella in una scendere. Ma ora la mia vera amore sta in un eterno slumber. E solo io posso scendere la scendere. Tu devi davvero amare. È quello che hai detto vero? Sì. Maleficent mi ha detto. Oh, Prince Philip, è tu! Ora, Philip... Il passaggio per la vera amore potrebbe essere barato da molti più rischi, che tu solo dovresti affrontare. Io faccio con te. C'è qualcosa che ho bisogno di sapere, e Maleficent ha la risposta. Sì, ovviamente, amore. Ora, veniamo. Dobbiamo riuscire ad Aurora. 1. Come hanno fatto le fatighe ad entrare? 2. Cosa diamine è questo coso qui? 3. Perché c'è un negozio Muguri in una cella? E 4. Cosa diamine significa quest'ascia? Va bene, molte delle domande alle quali non avremo risposta. Pup! Però questa è la mappa, e questo lo sappiamo. Ora, miei cari, se non erro, fatemi giusto controllare un attimo. Io ho solamente... È brutto detto così, però io ho solamente un fire. Già a livello 3. Ora, miei cari, mi serve un altro fire. Quindi fatemelo comprare. Ok, va benissimo. Mmm... Aero. Se non sbaglio mi serve anche un aeroga, ma posso anche protrarla. Uh, eccolo qua! Stop! Ok, stop ci servirà davvero tanto. Quindi, al posto di aero utilizzo stop. Filatevi di me, servono entrambi. Ora... Cosa mi serve di meno? Blizzara mi serve di livello 3. Non posso farci nulla. Non... Posso togliere energia per mettere fire. Anche se... Probabilmente non è una buona idea. Usciamo. Anche perché ho bisogno più di energia... O meglio, il contrario. Ho bisogno più di comandi attacco che di comandi recupero. Quindi... Non posso farci nulla. Ma niente! Ouch! Blizzard! Ok. Ok. Ora, se non erro qui, state molto attenti. Perché... Dovrebbe esserci una certa cosa che... Si potrà prendere tra due secondi. E ci servirà. Ci servirà. Ok. Non ti azzardare. Tempesta firaga. Oi! Quanto detesto questi cosetti microscopici. Ok. Fortunatamente acqua li sciotta perché è brava. Ed è... Una maestra del Keyblade. Pam! Ok. Brava magia carico. C'è qualche nemico qui. Sembra di no. Meglio così. E adesso andiamo qui. Ma... Sì. Ess. Ma... Li sciendo. Sono... Non è che quel... Un attimo... Ok, magnete per favore. Oh, livello 8, perfetto. E siamo in brano magia. Tanto per dire una cosa stupida, non è che quella... Quella K che abbiamo visto nella cella a partina d'Elsa? Ok, una stupidaggine. Ovviamente non a partina d'Elsa, però non è neanche di Filippo. Perché non è di Filippo? Perché Filippo ne indossa una, ma ne indossa una rossa, non magenta. Ok? Detto questo, preparati, maialino, dove sei? FINISH! Ok, ora stiamo molto attenti. Se non sbaglio, qui c'è una certa cosa che ci servirà. Infatti, sotterranei. Qui, miei cari, c'è un comando davvero devastante. Però non si prende da qui, quindi non dobbiamo andare qui. Bene. Forse è qui sotto? Perché non ricordo di preciso dove devo andare. Credo qui sotto. Spero qui sotto. Fatemi giusto controllare un attimo. Questa è la cella. No, dovrebbe essere qui, allora. Esatto, è qui. Ora, lo vedete? Quello scrigno lì contiene una cosa che mi servirà davvero tanto. Quindi prepariamo Blitz Barriera. Dovrei arrivarci. Spero di arrivarci. Altrimenti al massimo equipaggio Furia. Tanto per dirlo. Ora, tu, mio caro, verrai sconfitto dal fuoco. Ce n'è un altro. Qui sì, Gather! Fire! E ancora non abbiamo lanciafuoco, eh? Quindi non possiamo fare nulla. Maialino mio, vieni qua e fatti colpire. E PAM! Ah, quanto adoro acqua. Ancora? Davvero? Blitzul! Ok, siamo a posto. Dovrei arrivarci. Spero... Nope, non ci arrivo. Devo equipaggiare Furia. Ah, peccato. Gather! Fire! Davvero? Mi è colpito mentre usavo il fuoco? Schivate a veloce livello 3. Perfetto. Ora devo per forza equipaggiare Furia. Quindi datemi giusto un secondo. Oh, Blitz Barriera al massimo. Meglio così. Perché non mi servirà per molto. O meglio, adesso lo tolgo. Perché... Acqua si specializza in magie, non in attacchi fisici, tra virgolette. Ora, detto questo... Dovrebbe essere qui sotto di nuovo, sì. Ok. Prendiamo Furia. Spero solo che non si reindirizzi automaticamente contro un nemico, perché altrimenti qua siamo fregati. Blitzard! Oh, davvero? Entrambi in un solo colpo? Perfetto. Aiuto? Ok. Ora, qui devo essere veloce. Tempesta. Perfetto. Ora, anche qui. Preferisco sconfiggere questi, perché altrimenti mi vengono addosso e mi danno fastidio. Ora, perfetto. Vai così e vai. Esplodi. Perfetto. Ma la smettete di colpirmi, stupidi maialini? Ok, perfetto. Dovrei stare a posto. Prepariamo Furia. Là non ci arriverò mai, però... Così? Ok. Qui, miei cari, c'è... Gelo sbarramento. Sto coso fa male. E qui cosa c'è? Ora eviterò questi, perché siamo già stati qui. Cosa c'è qui? Il labirinto? Sì. Anzi, le prigioni? Abbiamo fatto un giro strano. Oh no, ok. Ora mi ritrovo. Perfetto. Scusate, ma questo pezzo è abbastanza confusionario, si dice? Non ne ho idea. Mi confondo spesso. Togliamo Furia. Perché non serve più. Ok, Furia. Ciao, mettiamo... Gelo sbarramento occupa due slot, ma è buono, eh. Tanto per dirlo. Mettiamo stop, perché mi serve almeno uno stop di livello 3. E poi ovviamente stop, ra, stop, ga e quant'altro. Ora, andando qui, se non sbaglio, si ritorna dove eravamo prima. Ossia nei sotterranei. Perfetto. Controllo giusto un attimo se ho mancato qualcosa. A parte la figurina, perché non serve la figurina. Ok. E ora possiamo andare avanti. Non voglio essere troppo over-livellato. Inoltre, già sapete che io andrò a prendere alcuni comandi. O meglio, sintetizzerò alcuni comandi tra questo e il prossimo episodio. Perché sì, mi sono sbagliato. Non ci saranno 14 episodi per acqua, ma 13. Perché lei non ha un intermezzo prima del giardino radioso. Se non ricordo male. Quindi, qualcuno che appare qui, sembra di no, meglio così. E adesso cerchiamo uno scrigno, perché so che c'è uno scrigno qui. Non so dove, ma so che c'è. Forse è qui sopra, eh. E infatti, eccolo lì. Ora, teoricamente già lo sbarramento si può ottenere solamente dopo aver ottenuto gran salto, ma... Ok, leggi della fisica di Birth by Sleep. Ok, dobbiamo sconfiggere i maialini e... Quei altri cosi che non ho ancora capito bene cosa sono. Comunque, una volta sconfitti i nemici che sono qui per terra, succederà un qualcosa di molto carino. Quindi sconfiggiamo il maialino. Anzi, i maialini. A proposito, io ho questo, perché non lo uso. Onda Tonante, che lagga. Non so perché, ma sta laggando. Ho fatto malissimo, non importa. Filippo. Dobbiamo sconfiggere questi? Ok. Stop. Blizzard. Dovresti essere morto, quindi andiamo al prossimo. Fire. Mi sa che si usa magnete qui. Raccolgo anche quelli che stanno sopra. No, sbagliato. Ok. Filippo. Ok. Ora, c'è qualcun altro davvero ancora? Ok. Dovrei aver finito. Giusto? Perfetto. Adesso. Filippo. Muoviti. Ed ecco qui una cosa molto bella. Esatto. E' questo il modo in cui si sale con acqua. Ok. Vai. Stop. Tanto per. Blizzard. Fire. Ouch. Magnete. E... Via dicendo, insomma. Ok. Fire. Level 3. Adesso abbiamo già un Fira. E ci servirà anche Fira, eh. Quindi non preoccupatevi. Ci serve tutto quanto. Ci serve Fira. Ci serve Blizzard. Ci serve tutto. Ora, abbiamo anche uno scrigno. Questo coso... Attenzione. Se lascio... Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Il danno che fanno sti cosi. Ok. Meglio di quello che pensavo. Attenzione. Già siamo in vita critica. Vi ho già detto più volte che acqua è molto debole in difesa. Quindi attenzione. Tempesta Firaga. Stiamo attenti. Tu non mi colpirai. Non devo colpire te. Voglio colpire te. Stop. Blizzard. Fire. E ora tu sei morto. E io colpisco questo. Che serve proprio ad abbassare il ponte. Ora, stiamo attenti perché ci sono altri nemici qui. Eccoli qui. Magnete in fretta. Perfetto. Ok, abbiamo recuperato abbastanza punti vita. Fortunatamente. Brava magia. Capito perché la adoro? Ora, voi vi fermate qui. Eh, eh. Mi spiace. Non avrete la meglio. E... Blizzard. Blizzard. Questa è la Fire. Non importa. Ok. Ok, attenzione. Si è caduto? Perfetto. Magnete. E... Vai, ancora brava magia. Abbiamo quasi fatto, non preoccupatevi. Ora... Appena riesco a sopravvivere. Stop. Blizzard. Fire. E ora tu dovresti essere morto. E brava magia tanto per... Ora, quando Philip muore... Perché sì, è morto. Aspettate giusto qualche secondo. Dovrebbe rianimarsi. E a proposito... Ah, ma niente. Oh mio Dio! Il danno che fanno sti cosi. Non posso farci nulla. Ah, qua è fatta così. E ora? Perché non ho lasciato energia è un mistero, ma... Ehi. Ora, qui dovremmo essere a posto. Qui non ci sono nemici, se non sbaglio. Spero che non ci siano. E qui ci sono due scrigni da prendere. Prendeteli adesso. Cristallo vigore. Ci servirà. E... Zero assoluto. Anche questo è molto buono. Detto questo, facciamo così. Oh, no, 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 no. Stop. Fermi tutti. Ora, così. Tempesta firaga. E... Finiti? Dovrebbero essere finiti? Spero di sì, perché ora anche io ho finito. Prima parlavo di gran salto. E abbiamo ottenuto gran salto. Ora, se non sbaglio, possiamo... Ehm... No? Non possiamo? Ok, non importa. Tanto per... Non è qui, è in console dei comandi, ok. Massimo, massimo... Ok, si comincia allora. Fire più... Fire più... Era... Usiamo sazietà perché mi dà simila, tanto per... Anzi, mi dà premio PS Plus, è ancora meglio. Ehm... Inoltre abbiamo Thunder e poi basta, non ci serve più niente, quindi... Blizzard e Blizzard ci dà... No, ok, no. Ok, perfetto. Adesso mettiamo Fire. Abbiamo colpo Chaos che non serve a niente. Doviamo Magnete per adesso. Mettiamo Energia che sto morendo. Dovrei stare a posto per adesso. Non serve più Magnete perché siamo vicini a un boss, quasi. Oh, no, 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 no. Vai con... Biancaneve. Ricordo che gli Unioni D servono per recuperare vita anche, quindi... Se volete farlo, fatelo. Oh, due cristalli sazietà e già un comando così? Perfetto. Dotto che mi cura. Pisolo. Wind. Non voglio sconfiggerli. Ok, perfetto. Dicevo, non voglio sconfiggerli con il comando finale perché il comando finale lo utilizzo adesso. È molto strano il comando finale del D-Link con Biancaneve, ma non ci posso fare niente. Dotto. Pisolo, dormite. Eulo. E pronti per i premi. Brontolo. Non mi ha dato niente, non importa. Dolci ricordi, ancora una volta. Che un po' di danno lo fa, però è meglio l'altro attacco, insomma. Detto questo, siamo a posto, togliamolo. Ok, dovremmo stare a posto. A meno che non appaiono altri in essence proprio adesso, ma non importa perché abbiamo vita piena ora. Vi ho già detto prima che acqua è molto fragile e ora ve l'ho anche dimostrato. Quindi, oh mio Dio. Stop. Ok. Fire. Epilogo. Tempesta. Blizzard. Ok, siamo a posto. Non osare colpirmi. Stupida. Vaso. Stupido vaso. Stupida anfora. Fire. Energia mi serve dopo. Stop. Blizzard. E non ti ho colpito. Peccato, però ora sei morto. Per forza. Brama magia. Ok. Ora, se non sbaglio, abbiamo finito. Ok. Andiamo qui. E comunque non preoccupatevi, ci manca davvero poco. Ora, Nessence, dove siete? So che qui possono spawnare i Nessence speciali per acqua. Punto che non ricordo dove di preciso. Quindi, devo stare attento. Ok. Stop. Inoltre, se mi capita, spero di sì, più che altro, vorrei usare brava magia proprio contro quei Nessence. Perché poi vedrete quanto dannatissimo. Drop rate? Quanta roba vi danno, insomma. Ok, siamo quasi a posto. Carichiamo un'ultima tacchetta. Anzi, prima questo. Ping. Lettera pallone. Va benissimo. Ora, se riesco a trovare altri Nessence. Perfetto. Stop. Blizzard. Ok, perfetto. Adesso. Eccovi qui. Io ve l'ho detto che con brava magia si possono fare tante cose, vero? E ve l'ho anche provato. Stop. Quindi, se non ottenete nulla da questi cosi se avete acqua, non è colpa mia. Ok, ancora. Ouch. Ok, sono spariti. Non importa. L'importante era prendere quello che dovevamo... Dovevamo prendere. Ok, adesso energia tanto per curarmi. Tempesta firaga su sti corvi perché li detesto, li disprezzo a morte. Perfetto. Perfetto. Non posso colpirlo, davvero? Ok, ce l'ho fatta. Oh no. Tu non... Dove te ne vai? Come ti permetti? Ok. Fortunatamente Fire insegue il nemico, quindi siamo a posto. Penso di aver mancato qualcosa qui dietro. Credo. Forse sì, adesso controllo. Ok, fortunatamente ho stop. Va benissimo. Ah, tanto per dirlo. Così come Fire va verso il nemico perché è homing, insomma. Blizzard perfora il nemico, ossia ignora le difese. Ho mancato qualcosa. Un attimo. Ho già preso uno scrigno che sta qui. Sì. Non ho mancato nulla, allora era solo la mia impressione. Non importa. Siamo a 25 minuti di video. E poi basta. Tanto per ricordarmelo che siamo quasi alla fine. Tanto per. Ora, questa è la penultima schermata. E se non sbaglio abbiamo ottenuto tutti quanti i tesori di questo mondo. Non tutte le figurine ovviamente però. Le controlliamo. Diario. È molto meglio prendere tutto quanto adesso. Ci manca solo un tesoro che, indovinate un po', è proprio qui. Eccolo lì. Quindi facciamo così. Prendiamo il tesoro e la figurina, se ci riesco. Perfetto. Ora, dovremmo stare a posto, però stop non va bene. Stop non va affatto bene. Inoltre è già a livello massimo. Bene. Ora, al posto di stop. Fatemi ci pensare. Oh, potrei fare questo perché questo è buono. Parecchio buono. È più forte? Solo per questo lo metto? E dovrei stare a posto. Ok. Detto questo, i miei cari, andiamo avanti. A forest of thorns shall be your tomb. Wound round the castle in a bower of doom! Maleficent. What did Master Xehanort tell you? Such a pity, child, that you don't have Terra's gift for obedience. Nor can you see how easy it was for him. Terra would never do anything to help you. Quite the contrary. He fully embraced the darkness within himself. Stop lying! See for yourself all the powers of hell! Oh! La cosa più bella di questa boss fight è che potete stare letteralmente qui dietro e spammare magie Infatti così lei non vi colpirà mai E già lo sbarramento è questo attacco, fa tanto male, tanto per dirlo Ora, sfortunatamente per me, ouch Cosa fai? Malefica? Non importa, dovrei stare a posto, ho energia Prenditela pure con Filippo, vai Vai, tanto per sicurezza e adesso colpiamola un altro po', va bene Oi, smetti la brava magia, vai Ah giusto, non preoccupatevi, se non vedete i suoi punti vita comunque le state facendo danno, tanto per dire Gelo sbarramento E quando prende il volo, state molto attenti Un po' più lenta, malefica, eh Filippo Perfetto, ed è questa la cosa ultra utile Gelo sbarramento in aria Ok, dovremmo stare a posto Ora, malefica cara, sei quasi morta Perché non mi fai il favore di sparire nelle più profonde cose del tra poco muri con tempesta di fuoco? No? Con Blizzara? Fine! 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 No! All together, now sword of truth fly swift and sure that evil die and good endure No! 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 Stop! Try all you want, but you'll never defeat a heart filled with light Perhaps, but remember one thing, as long as there is light, there will be darkness, and in time, many more will be drawn to it, and they will All belong to me! Terra, devi mantenere forte per me. Terra, dove vai? Terra, devi mantenere forte per me. Terra, devi mantenere forte per me. Quanto tempo passerà prima che io possa prendere i tesori della Terra di partenza? Un bel po'. In ogni caso, i miei cari, ci vediamo nella prossima parte dove sarò ben allenato. O allenata, dato che sono acqua. Con i comandi, ovviamente. E andremo nel giardino radioso. Ma fino ad allora... See you next time!